Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Millie Carlucci, dopo il faticoso impegno sostenuto nel famoso programma televisivo, il cantante mascherato proietta già il suo sguardo verso il futuro. Il fiore all'occhiello della sua carriera, ballando con le stelle, si prepara per un imminente e trionfale ritorno in autunno, con aspettative più alte che mai. Antonio Caprarica, noto giornalista ed ex corrispondente da Londra per la Rai, è uno dei grandi nomi pronti a scendere sulla pista da ballo del sabato sera su Rai 1. Un altro personaggio di spicco che si appresta a entrare nel cast è Simona Ventura. Come rivelato in anteprima. La conduttrice di «Citofonare Rai 2» sembra essere molto vicina a unirsi alla competizione. Millie, con l'intento di includere la veterana conduttrice, sarebbe pronta a fare un'eccezione alla regola non scritta che esclude i partecipanti ai reality show da ballando con le stelle. Anche se in passato ci sono state aperture con partecipanti che avevano già partecipato a reality show più leggeri, come Pechino Express e Music Farm, la lista di possibili partecipanti continua con Bruno Barbieri, volto di Masterchef e 4 Hotel, e Damiano Carrara, giudice di Bake Off. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Carrara ha fatto solo un provino, ma il suo nome sembra adatto al programma. Nel tentativo di creare un cast vario e interessante, la produzione di Ballando con le stelle sta cercando anche di convincere Mauro Corona a unirsi alla competizione. L'edizione 2023 di Ballando con le stelle promette di portare sul palco un mix unico di talenti. Preparatevi a seguire il vincente spettacolo del sabato sera su Rai 1, che prenderai via questo autunno. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like, condividi e commenta. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare!